Buonasera signore e signori bentornati a Game Fails Giochi Fallimenti Ma che ne sai che sia sera? Adesso è sera che è uscito il video ma magari lo stanno riguardando l'indomani Ma tu ti rendi conto che noi non possiamo essere onniscienti e dobbiamo relazionarci all'ora in cui esce il video? Va come parlo! Ma godiamoci questa puntata, ma? Sì Già rido, perché fermo quello? Ecco si inquietano, perché poi non solo... Oh mio Dio È tipo un fantasma Oh santo cielo Aiuto Ecco Comparso? Sì Comparso Cosa? Però beh Però non male, non male, non male Tommy Kart Sì Uno sale le scale e si ritrova nel sottomodo Sottomodo della Tommy Kart, check, perché mi mancava in effetti In effetti è vero Era l'unico gioco al mondo di cui mancava il sottomodo Ah sì, ma sta cosa è capitata pure a me Ma non è mai stato Questa cosa è capitata pure a me È mio questo bug Non è tuo però Ti ricordi che c'eri pure tu quando? Sì, sì, vero, vero Sarà un bug proprio noto Qui si parla amabilmente Caricamento E poi succede che è cyberpunk, no? E si ritrova da tutt'altra parte della mappa Merda, veramente E lui sta guardando e dice Ma dove cavolo sono finita? Ma dove? E guarda la macchina pure È arrivata là sopra Ma perché? Cerca di seguirti in tutti i modi Autocombustione Ancora freddo sempre, no? Va bene Ah, ora se ne accorto Quando fai i peti L'accendino tienilo a distanza Devo morire Lo guardo fermo Sì, sì Che devi fare? Cosa su... Cosa succede? Perché questo bug Questo glitch Che è già capitato ad altri Ti fa entrare dentro l'ano del protagonista No, ma questo No, non è solo questo Lo ha proprio slargato tutto È certo Perché vuoi prendere l'orifizio Lo spiritere Lo allarga a schermo intero Però di fatto è uno spintere Ma che cos'è? Quello è l'ano Quelle sono le ragadi Si vede? Sebastian tutto a posto? Ci sono tanti bug legati a Sebastian Sì, sì, sì Che stava sul cazzo un po' E quindi lo vogliono fare Buggare il glitch Niente Così è basta Ma sembrava che stesse nuotando Volevi Vabbè ma giustamente è una magia questa Sta nuovolando Sta volanutando Eh, sì Ma Cosa succede? Qui il gioco non ci ha capito un cazzo È tutto strano E va bene così Sembra fantozzi quando si allontana A stile libero Sì Due scope? Sì ma non si è capito La scopa che si allontana da sola Per cortesia spegni Spegni Due scope Ma spegni il gioco Basta Disinstaller e restare Non puoi atterrare Questo dalla bacchetta Sì Vedi ha un filamento Eh sì Strano E anche in tasca Sembra così che stia facendo Vivi? Dici viola? Un po' radioattiva? Beh ci sta Vai 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 stealth Tipo cartone animato Questo è bello E anche come cartone animato questo Di Willy il coyote Esatto Aiuto Help Cos'è? Gamora Ehi aspetta un attimo È tutto normale Ha perso la testa per lei Ha perso la testa per lei Gamora 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 No Capita Cosa? Cosa? Ma Vabbè Se la fai così Non è sportiva Non posso competere Scusa Come Vabbè Con la forza del pensiero Buona volta che ci siamo Risolto Risolto A posto A coltello Dai Ecco Questa non poteva mancare No È un classico Però ogni volta è diverso Il ruzzolo Questa non poteva mancare Il titolo solenne No? Gli Elder Scrolls C'è un cavallo C'è un cavallo in aria Madonna Questo è sempre bellissimo Però è diverso Questo è più disastroso Guarda che sta Che cosa sta succedendo Non so dove guardare Perché il suo cavallo Non arriverà mai Le tue mani sono legate Grazie A proposito di cavalli Qui abbiamo uno a tre teste Esatto In realtà sono Tre compenetrati No ma non devi spiegarli Guarda come festeggia Ibra Imovich Ibra Vabbè ma Ibra le sa fare queste cose Così? Sì sì le sa fare Sì sì Non puliscono E proprio E tu dici in quel caso Volebbero appiccicosi Non commento Raider Non state parlare Ma vi levate davanti Ma vi levate dal cazzo Ma Con quale framerate Tra l'altro Stai dicendo Va bene Qui abbiamo Un cretino A posto Cos'è? Vabbè si è smaterializzato Un altro Un altro È normale Dietro la guerra E loro che parlano Dietro lo schifo E in mezzo pure La merda Stanno fermi Così tipo Devo andare Che dobbiamo fare Con questi Questi ragazzi Questi ragazzi Che cosa devo fare Con questi ragazzi Non vedo finta È a stemio Queste sono le bullshit Di Sebastian Qui se ne è andato Però fin qui È abbastanza normale A parte una caduta Non dovrebbe andare Dovrebbe seguire Scompare Eccolo Però in un gioco di magia Questi non sono Seconda bullshit Di Cosa fa? Torturato dalle Dalle piante Dall'aria Sì dall'aria Vediamo Terza bullshit Amico mio La natura Te sta sul cazzo Cioè nel senso Tutto ti fa male È allergico A qualsiasi cosa Cosa si muove Ah è un cadavere Giustamente Spezza il collo Ma più spezzato Così Spezzaglielo meglio È anche questo Per il male È giustamente lui Per guardare il bug Per guardare il bug Mi dispiace Ma hai perso per sempre Non riesce a salire le scale È fin qui Niente C'è una specie di È fin qui Però il fatto che cammini Sul Sull'aria Non Niente È bravo Bravo Sconfiggi il bug Vai Sconfiggilo Vai Bravo Sconfiggi Bravissimo Ottimo Ma proprio è finita così Speriamo morisse Questo è il classico bug Della Stonaz Su PC Ha questo bug Noto Ce ne sono tanti E questo è uno di questi Povera Tess Beh Ognuno Ma se io non capisco Come sono E questi Beh È un momento quasi romantico Parte Celine Dion Con la musica del Titanic Sì 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 Signori Ogni volta io mi sbellico Ma cosa dico Mi sbellico Mi sguerro Questa era Sottile Allora ragazzi Bellicoso No Guerra 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 Il bug Che vi è fatto più ridere Seguendo il link In descrizione E vediamo Quale ha vinto La volta scorsa Faceva schifo Quella battuta In effetti Allora tu vedi Sto bug E dici Non è sexy Un po' sì Cioè Oddio C'è una redhead Insomma Vabbè Questo non c'entra Però tipo Non ha niente di troppo Cosa sto facendo Adesso capisci Sì? A E no E no Pubblico Allora Allora Come sempre ragazzi Vi invitiamo a mandarci i vostri bug Fail Momenti divertenti nei videogiochi Seguendo le istruzioni In descrizione Laddove A dove Come Fail Può non essere per forza Un bug on leash Ma anche Un gol sbagliato A portavuola in fifa FIFA quale? 23 Eh no I miei sports fc Perché già mi preparo Per l'anno prossimo Eh cara mia Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima